Ciao ragazzi, qui Marco Agustoni di IllustratorStartup.com. In questa lezione parliamo di forme composte in Illustrator. Allora, per forma composta intendiamo un elemento grafico formato da due o più forme. Osserviamo attentamente queste due forme che ho ottenuto attraverso l'unificazione di due semplici cerchi. All'apparenza questi due elementi grafici potrebbero sembrare identici, ma se passiamo alla modalità contorno tramite la combinazione di tasti CTRL o CMD Y possiamo notare delle enormi differenze. Allora, vediamo subito che nella prima forma di sinistra abbiamo un unico tracciato, quindi i cerchi sono stati fusi completamente in un'unica forma. Nel secondo caso, quello di destra invece, Illustrator ha mantenuto intatte le forme di partenza. Come potete vedere, qui abbiamo i due cerchi originali. Per ottenere questi due differenti risultati ho semplicemente utilizzato il pannello elaborazione tracciati, ma nel primo caso le forme si sono unificate definitivamente. Mentre nel secondo ho ottenuto una forma composta, ovvero un elemento grafico che posso modificare in qualsiasi momento. È proprio questo il vantaggio di lavorare con le forme composte. Poter quindi modificare in qualsiasi momento, per esempio, il metodo forma, piuttosto che l'ordine di sovrapposizione, le forme, la loro posizione e l'aspetto di ciascun componente. Per esempio, avendo realizzato qui la mia forma composta, potrei fare un doppio clic, accedere quindi alla modalità isolamento e modificare, per esempio, le dimensioni del cerchio di destra. Ok, quindi potrei, per esempio, allargare il cerchio in questo modo e, come vedi, nonostante io stia modificando uno dei due elementi, entrambi comunque rimarranno unificati. Ok, quindi posso spostarlo anche sopra, uscire dalla modalità isolamento e vedere che comunque l'unificazione è stata mantenuta. E potrei addirittura cambiare il metodo forma, passando, per esempio, da un metodo unifica a un metodo sottrai. Andiamo a vedere come fare. Allora, innanzitutto andiamo ad espandere il pannello elaborazione tracciati che ci serve, appunto, per dar vita alle nostre forme composte. Eccolo qui. Dunque, abbiamo già creato la nostra forma composta unificata e adesso vi mostrerò, innanzitutto, come si creano queste forme composte e poi come si possa modificare il metodo forma. Allora, vado qui sulla destra e creo due cerchi. Ok, duplico, quindi creo il secondo cerchio e lo sovrappongo leggermente al primo. A questo punto posso selezionare i due cerchi e fare clic sulla funzione unifica. Limitandomi semplicemente a fare clic su unifica, le forme verranno unificate, unite definitivamente. E lo possiamo notare anche se passiamo nella modalità contorno, quindi ctrl, command, y, vediamo che le forme sono state unificate definitivamente. Abbiamo ottenuto un'unica forma. Tornando alla visualizzazione anteprima e facendo un ctrl, command, z, torniamo nuovamente sulla funzione unifica. Questa volta, però, come vedi, qui tra parentesi, Illustrator ci dice opzione più clic per creare una forma composta. Quindi teniamo premuto il tasto alt o option e facciamo un clic su questa funzione. Come vedi il risultato è identico, quindi le forme sono state unite, ma selezionando la forma vediamo che comunque abbiamo mantenuto le due forme originali, i due cerchi originali. E quindi questa è la forma composta. Ok? Basta semplicemente utilizzare i metodi forma che abbiamo all'interno del pannello elaborazione tracciati e fare un clic su una funzione tenendo premuto il tasto option o alt. Per rilasciare invece la nostra forma composta e quindi eventualmente anche cambiare il metodo forma, possiamo accedere a questo piccolo menu in alto a destra del pannello elaborazione tracciati e selezionare la voce rilascia forme composte. A questo punto torniamo alla situazione iniziale. Possiamo selezionare nuovamente le forme da comporre e possiamo fare clic per esempio sulla seconda funzione sotto meno sopra. Quindi tengo premuto il tasto option sotto meno sopra e così sono stato in grado di modificare il metodo forma. Quindi ti ricordo che per rilasciare la forma composta puoi fare clic qui e selezionare rilascia forme composte e a questo punto puoi decidere di modificare anche il metodo forma passando per esempio da un sotto meno sopra a un interseca. Ok quindi un'altra cosa molto importante delle forme composte è che si comportano esattamente come degli oggetti raggruppati infatti se accedi al pannello livelli puoi vedere che qui abbiamo la nostra forma composta eccola qui appunto si comporta come un gruppo infatti se lo espandiamo all'interno troviamo i due elementi. Anche qui possiamo selezionare per esempio uno dei due elementi quindi possiamo selezionare l'ellisse e modificarlo anche magari utilizzando lo strumento di selezione diretta quindi possiamo intervenire anche direttamente dal pannello livelli. Quindi le forme composte sono sicuramente un ottimo strumento per combinare gli oggetti fra loro e mantenere intatte e modificabili le forme di partenza. Potete utilizzare il pannello elaborazione tracciati per dare vita alle vostre forme composte. Questo pannello oltre che ad essere di vitale importanza quando si lavora con Illustrator è anche molto molto complesso. Se volete scoprire di più sul mondo di Illustrator ho preparato un corso che si chiama Illustrator Startup e che contiene più di 100 video lezioni. In realtà si tratta di un percorso per chi vuole apprendere Illustrator dalla A alla Z e per tutte le informazioni trovate il link qui sotto in descrizione. Grazie.